Parliamo ora dei collaboratori, della tua squadra. L'obiettivo di un'agenzia è quello di attrarre talenti e persone. Non ho detto cercarli o rincorrerli, ma attirarli. Per poterlo fare devi avere qualcosa da offrire di attrattivo. Possono essere clienti di un certo tipo, ci sono professionisti che non vedono l'ora di potersi mettere alla prova su progetti con budget a sei cifre. Oppure puoi puntare sull'ambiente di lavoro, creando un contesto straordinario, magari organizzando settimane di lavoro in posti particolari, al mare, avendo un ufficio dove tutti vorrebbero lavorare e vivere. Oppure soldi. Se puoi permettertelo, puoi essere la realtà che offre compensi più alti rispetto a tutti gli altri. Oppure ancora popolarità. Ci sono realtà che attraggono talenti perché sono un trampolino di lancio per fare carriera. Bene, solitamente se la tua agenzia ha una o più delle caratteristiche che abbiamo appena visto, dovresti riuscire a ricevere molte candidature e in modo costante. Così facendo puoi permetterti di scegliere i tuoi collaboratori. Se vuoi un benchmark in Mirai Bay riceviamo circa mille candidature autonome all'anno. Anche qui qualche consiglio pratico. Lascia aperte le candidature sul sito anche quando non hai urgenza di assumere. Quando invece hai urgenza, sfrutta i portali specializzati. LinkedIn per noi ad esempio funziona. Noi abbiamo un questionario automatizzato che ci permette di ottenere tutte le info che ci servono per ogni posizione prima di fare il colloquio. Questo ti aiuta a ottimizzare il tempo del tuo riparto HR. Infatti devi pensare che quando ricevi mille candidature all'anno hai bisogno di un filtro che preselezioni le persone che hanno davvero interesse a lavorare nella tua realtà, scartando quelli che inviano CV a vagonate a chiunque. Quindi dopo il questionario, sempre in automatico, noi chiediamo di inviarci una presentazione video. Anche grazie a questo piccolo commitment capiamo chi è davvero interessato e in più ci facciamo un'idea delle soft skill della persona. E poi naturalmente facciamo i classici colloqui. Prima quello tecnico, fatto dal manager, e poi quello finale per rivedere le soft skill e misurare l'affinità con la nostra realtà. Infine, quando poi una persona viene scelta, partono tutte le procedure di onboarding. È importante che tu abbia ben chiare le caratteristiche delle persone che vuoi assumere. Ti consiglio di scriverle nero su bianco nella tua guida interna. E tra poco vedremo di cosa si tratta.